Grazie a tutti. No, vanno rimessi anche questi. Posso aprire la finestra? Dove? Lì. Sopra le più piene? Sì. Un po' di più. Cioè, mi hanno dormito quattro ore e mezzo e sono rincazzato con una bicchetta. E ho un martello in mano. E' andata a fare la colazione. Sì. L'abbiamo fatto. Bravi. Se l'aveva detto il dottore. Grazie a tutti. Ah, bello. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. 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 Grazie.